1804. Napoleone Bonaparte si autoincorona imperatore. 1942. Il gruppo di Enrico Fermi effettua la prima reazione nucleare a catena. 1988. Benazir Butto giura come capo del governo pakistano. Commenta il fatto del giorno Roberto Papetti, direttore del Gazzettino. Oggi parliamo dello sbarco a Cuba di Fidel Castro e dei suoi barbudos.